Dal Vangelo secondo Matteo Considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo Ella darà la luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Ecco, la Vergine concepirà e darà la luce un figlio A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore E prese con sé la sua sposa Emanuele, che significa Dio con noi Emanuele, che significa Dio con noi